Ben trovati, buongiorno, tutti all'ombra, tutti a posto, state bene, comodi, perfetto. Terzo e ultimo appuntamento di Geografia delle Fedi e come si diceva ieri, inevitabilmente questo viaggio che abbiamo compiuto in porzioni del mondo, secondo l'intuizione di Giovanni Ferro, che è caporedattore del mensile di informazione religiosa Iesus, edito da San Paolo e che ha ideato con il festival biblico Geografia delle Fedi e che quindi di nuovo ringrazio, dicevo secondo una sua attenzione il giro che abbiamo fatto in questi tre giorni, in questi tre appuntamenti è tra Anello Dieboli e Anelli Forti, cioè ragionare, andare a guardare alcuni paesi in considerazione dell'abuso di potere che alcuni altri paesi fanno su questi primi che abbiamo deciso di osservare. Sono quelli che forse sono meno nel dibattito anche televisivo, radiofonico, siamo partiti dalla Mongolia, abbiamo visto ieri Cuba e questa sera terminiamo con questa sera, quest'oggi con Yemen in maniera, diciamo, inevitabile, perché per forza di cose Yemen, Iran e Arabia Saudita vanno considerati. Partiamo dunque subito, ringrazio di nuovo Mavis S.p.A. che ha sostenuto, pronto, che ha sostenuto questi tre appuntamenti, ma soprattutto vi chiedo un applauso sincero e di grande stima a Costanza Spocci che ha moderato, condotto e con noi progettato questi tre appuntamenti. Grazie. Quindi lascio il palco ai nostri ospiti, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie mille per essere qua all'ombra, ancora per poco forse, chissà. Fa molto piacere essere qui, quindi, insomma, visto che l'ultimo incontro, grazie a Roberta, grazie a Giovanni per aver organizzato ancora quest'anno Geografia delle Fedi, perché veramente è un po' un unicum nel panorama dei festival poter coniugare, diciamo, così tanta competenza dei nostri ospiti e capacità di approfondimento. Oggi siamo qua per parlare di Yemen, diciamo, la linea rossa dei nostri tre incontri è stato anelli forti e anelli deboli. Noi ci siamo concentrati su anelli deboli, anche per volontà di Giovanni Ferro, che, diciamo, ci ha aiutato a tracciare questa linea, perché abbiamo pensato che è attraverso questi anelli deboli che si riescono a capire tante cose, anche delle dinamiche mondiali in questo momento, che sono tante, sono complicate, sono anche preoccupanti. Quindi oggi con noi abbiamo tre ospiti. Qui alla mia destra c'è Laura Stiglie Battaglia, che è reporter in area di crisi, voce di Radio 3 e grandissima esperta di Yemen. Alla mia sinistra abbiamo Hamdan Al-Zekri, che è consigliere direttivo nazionale dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia ed è anche ministro di culto islamico nel carcere di Sollicciano a Firenze. E poi in collegamento con noi abbiamo anche un signor Paolo Martinelli, vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, che è adesso in videocollegamento con noi dagli Emirati Arabi Uniti. Buongiorno. Monsignor Martinelli potrà stare con noi solo la prima mezz'ora perché poi è impegnatissimo, però ne approfitteremo subito. Prima di andare da lei, Monsignore, io chiederei a Laura, Laura Stiglia, che conosce benissimo lo Yemen, di introdurci un po' questo paese stretto diciamo tra grandi potenze regionali, soprattutto tra Iran e Arabia Saudita, un paese che ormai da più di un decennio è in guerra, una guerra civile che però si è anche cronicizzata proprio a causa dell'intervento di queste grandi potenze e anche degli Emirati Arabi Uniti. Quindi Laura ti chiederai se ci puoi fare un'introduzione di cosa sta succedendo nello Yemen e appunto come questi attori sono intervenuti in questi anni. Grazie Costanza, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui per la seconda volta e vi ringrazio molto, e anche di questa bella giornata che non era scontata. Cercherò di fare un riassunto il più possibile breve. Innanzitutto ho osservato la posizione strategica dello Yemen, esattamente nel gomito della penisola arabica, con un confine lunghissimo sull'Arabia Saudita di terra, un confine più corto con l'Oman e un confine di mare molto importante e molto strategico sul cosiddetto stretto delle lacrime, il cosiddetto Bab al-Mandeb, che lo porta vicinissimo al corno d'Africa, con tutti i paesi che si trovano nel corno. Storicamente, insomma, nella storia geologica del nostro pianeta, come sapete, queste due metà non erano divise da quel mare stretto, ma in realtà erano unite e poi si staccarono. Tecnicamente la guerra è scoppiata, di fatto, stiamo parlando del 2015, del marzo del 2015, ma la instabilità dello Yemen, se così possiamo definirla, parte dall'anno delle rivoluzioni arabe. Quindi stiamo parlando di più di dieci anni fa, stiamo parlando del 2011, quando il paese che era governato da 33 anni da Ali Abdullah Sale, che era il suo presidente, ricordo che lo Yemen è l'unica repubblica tra i paesi del Golfo, quindi non è un imamato, non è un sultanato, non è un emirato, questa è stata la sua particolarità, e quindi il presidente Ali Abdullah Sale venne disarcionato da questa rivoluzione. Tenete presente che questo è un paese che ha avuto sempre, di fatto, politicamente due anime, il sud che proveniva da quello che era il precedente protettorato britannico, molto vicino comunque a un modello sovietico, un po' come era l'Afghanistan in una certa fase, e il nord che invece nel passato era stato un imamato ed era stato interessato anche dalla presenza dell'impero ottomano. Quindi sono due luoghi che hanno alcune nature politiche differenti. Il paese venne unificato con una guerra complicata, prima che Ali Abdullah Sale diventasse presidente, poi divenne presidente in modalità che la storia poi ci dirà se sono state veramente, come dire, prive di sangue oppure no, ma sappiamo che in realtà lo diventò con un'azione non esattamente ben giudicabile, e diventò presidente per 33 anni, governando il paese di fatto con pugno di ferro, e cercando di eliminare i suoi rivali, soprattutto chi ambiva a ancora separare lo Yemen, nel nord e nel sud. Quindi cercando di sedare nel sangue, soprattutto nel nord, delle rivolte che tentavano di continuare a separare il nord o di continuare a separare il sud. Quindi governa con pugno di ferro fino al 2011, avviene la rivoluzione yemenita. Tra l'altro, insieme a quella tunisina la più pacifica delle rivoluzioni del 2011, guidata soprattutto dai fratelli musulmani yemenisi, dal partito Islah, e a quel punto il paese di Sarcione Ali Abdullah Saleh, lui si rifugia in Arabia Saudita, e poi il paese viene traghettato verso una soluzione che doveva essere una nuova Costituzione, un nuovo Parlamento eletto da quello che era una volta il suo Delfino, che diventa presidente pro tempore. In questo periodo la comunità internazionale favorisce yemen la creazione di una conferenza di unità nazionale, cioè un luogo dove tutte le parti politiche e tutte le tribù si siedono intorno a un tavolo. Io ho partecipato a diverse di queste riunioni, in cui c'era anche una sezione dedicata alle donne, eccetera, ricorderete un po' tutti, Tava Kulkarman, che è stata a Premio Nobel per la Pace, e sostanzialmente si cercava di trovare una misura tale che portasse il paese a queste benedette nuove elezioni e soprattutto attraverso il referendum alla creazione di una nuova Costituzione. La conferenza di unità nazionale si spaccò su tre punti, che sono molto importanti da citare oggi. Uno, uno yemen federato, perché c'era chi non lo voleva. Uno yemen senza Ali Abdullah Sale, perché qualcuno voleva che lui ritornasse. Uno yemen privo di armi possedute privatamente dalle milizie e dalle tribù del paese, perché alcuni non se ne volevano dispare. Questi alcuni fondamentalmente erano coloro che avevano sempre brigato per dividerlo yemen, quindi, diciamo, genericamente il cosiddetto partito all'Iraq che si trova al sud, e poi il partito Ansarullah, che venne creato dalla famiglia al-Huti yemenita del nord, di Sada, e che fu, diciamo, violentemente, le cui rivolte vennero violentemente sedate nel sangue delle Abdullah Sale, negli anni, diciamo, alla fine degli anni 90, primi anni 2000. Quindi, la conferenza si spacca, stiamo parlando degli anni 2013, fondamentalmente il 2013 fu un anno abbastanza difficile da questo punto di vista, tanti attentati, soprattutto a Sanaa, intervento evidentemente, diciamo, trasversale di forze vicine al paese, cioè Arabia Saudita e Iran, che agiscono sugli anelli deboli, appunto, e quindi lì succede che gli Uti scendono fisicamente alla città di Sada, dal nord del paese, occupano Sanaa, il presidente protempore fugge, arriva ad Aden e a quel punto fa una telefonata all'Arabia Saudita e chiede l'intervento ai Sauditi. L'intervento ai Sauditi accade con un bombardamento su Sanaa, che è detta all'inizio della guerra alla fine di marzo del 2015. In questo contesto, la Lega Araba guida Saudita, si pone a difesa dello Stato iemenita, diciamo così, legalmente riconosciuto, internazionalmente riconosciuto, contro gli Uti iemeniti, che a loro volta, con questa guerra, portano, diciamo, la loro presenza fino alla punta sud, Aden, vengono ricacciati indietro nell'arco di sei mesi, fino alla città che divide a metà lo Yemen, qui la città di Taez, e diciamo, bene o male possiamo dire che lo Yemen, da più o meno il 2016-2017, ha questo assetto, con una serie di variabili, dove il nord è in mano ad Ansarullah, quindi agli Uti iemeniti, il sud resta in mano al governo centrale, che nel frattempo si rimpasta, si arricchisce della presenza di rappresentanze politiche molto vicine agli Emirati Arabi Uniti, molto vicine a milizie create e finanziate dagli Emirati Arabi Uniti, e poi c'è una zona, ecco e chiudo, che si trova più nell'area, diciamo, al confine, da una parte tra Erbe Saudita e Oman, che si rende un po' più indipendente per alcuni motivi, e incastonata quasi al centro, verso est, c'è l'area di Shabwa, che invece è sempre stata in mano ad Al-Qaeda. Ecco, questo è il quadro in un paese che è sempre più franto, sempre più diviso, con questa grandissima divisione, nuovamente tra nord e sud. Solo una domanda molto secca, quanti civili sono morti dall'inizio del conflitto? Giusto per dare un'idea. Ne sono morti moltissimi, diciamo che stiamo parlando di, considerate che la popolazione iemenita viaggia intorno ai 28 milioni di persone, si parla di almeno 12 mila. Io adesso parcerei al Monsignor Martinelli, proprio perché vogliamo approfittare della sua presenza. In questo contesto veramente complicato e difficile, in cui appunto moltissimi civili sono stati uccisi, c'è anche una comunità cattolica. Una comunità cattolica che non è molto numerosa, però che c'è, che è presente. Quindi siccome stiamo qui a geografia delle fedi, le chiederei, Monsignor Martinelli, se ci può un po' raccontare chi fa parte di questa comunità, dov'è e come opera all'interno di un contesto così complicato. Grazie innanzitutto per l'invito, per poter essere con voi. Brevemente dico un po' qual è anche il mio punto di vista. Io sono incaricato come vicario apostolico dell'Arabia Meridionale, che comprende anche lo Yemen, insieme all'Oman e agli Emirati Arabi Uniti. Ovviamente rispetto a questi altri due paesi, la situazione dello Yemen è estremamente particolare, soprattutto a partire da questi ultimi anni, insomma. Diciamo la comunità cristiana, anticamente, diciamo prima di questo conflitto, aveva una sua consistenza. C'è anche una presenza di nativi, gli Yemeniti cristiani, ma la maggior parte dei cristiani sono sempre stati immigrati, presenti per motivi di lavoro, soprattutto dalle diverse parti dell'Asia. Ovviamente con il conflitto la situazione è cambiata completamente, e moltissimi cristiani hanno lasciato il territorio. Siamo in grande difficoltà in questo momento a capire quanti sono i cattolici presenti. Diciamo, noi abbiamo come presenza attualmente solo due comunità delle suore missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta. Diciamo, precedentemente al conflitto noi avevamo quattro parrocchie nello Yemen. Attualmente tutte queste chiese sono inagibili, quindi non possiamo fare nessun tipo di attività. Mentre la presenza delle suore è molto preziosa, è anche molto stimata dalla popolazione e anche dalle autorità. Sono due comunità che si trovano in questo momento nel nord, a Odeida e a Sanà. Loro fanno un grande lavoro di carità e di accoglienza, molto semplice, loro accolgono tutti coloro che hanno bisogno, in particolare gli anziani e persone affette da diverse malattie fisiche o psichiche. fanno davvero un lavoro grande di accoglienza e con grande semplicità le loro porte sono aperte per tutti. Ecco, la loro presenza è estremamente significativa anche per quello che loro hanno subito in questi anni. Loro hanno subito due attentati. Il primo è accaduto nel 1998, finita la celebrazione, dalla mesta recandosi tornando a casa nel convento dove hanno luogo dell'ospitalità per anziani ammalati, una persona ha cominciato a sparare contro di loro e tre sorelle sono state uccise. Questo è stato un primo episodio che a quel tempo sembrava essere isolato, mentre poi con l'inizio della guerra civile c'è stato poi un attacco molto più massiccio nel 4 di marzo del 2016 dove sono rimaste uccise quattro sorelle e poi sono state uccise insieme a loro anche alcune delle persone che lavoravano con loro. Ecco, molto interessante il fatto che tra queste persone uccise tra l'altro sono persone anche di fedi diverse, anche musulmani che collaboravano in questo lavoro di carità e di ospitalità. Nonostante tutto questo, le sorelle hanno deciso di rimanere e in questo momento sono in qualche modo un po' l'unica presenza cristiana istituzionale da parte della Chiesa Cattolica e fanno davvero un lavoro estremamente prezioso di carità. Ecco, ma signora Mattia Dalli. Nel sud invece in questo momento non abbiamo un'altra presenza. So che c'è una presenza di Caritas Internationalis ad Aden che lavora per progetti umanitari. Ecco, questa è un po' la nostra situazione. Abbiamo anche la presenza di un sacerdote che sostiene le suore di Madre Teresa nel loro lavoro. Ecco, ringraziamo il Signore che almeno possiamo avere questa presenza che mi sembra estremamente significativa per tutti, per tutto il popolo iemenita. Grazie, signora Martinelli. Se per caso ha delle casse che sono accese, le chiederei di spegnarle così non abbiamo un ritorno. Non so se, però insomma, comunque riusciamo a sentirlo stesso bene le sue parole. Le chiederei, visto che ci ha parlato insomma del suo vicario apostolico dell'Arabia Meridionale che ricomprende anche l'Homan e gli Emirati Arabi Uniti. Lei, insomma, rispetto allo Yemen, soprattutto quando ci siamo sentiti, mi raccontava che invece la situazione della comunità cattolica negli Emirati è molto diversa. Ci può dare un'idea, insomma, delle persone che fanno parte di questa comunità anche per farci capire la differenza a livello regionale appunto della comunità cattolica? Possiamo dire che complessivamente noi abbiamo nel nostro vicariato, possiamo dire, abbiamo circa un milione di fedeli, tenendo insieme appunto i pochi che ci sono nello Yemen, il maggiore numero è nell'Homan, ma la stragrande maggior parte si trova invece negli Emirati Arabi Uniti. E qui si tratta di una realtà molto particolare. Noi abbiamo negli Emirati nove parrocchie e sono molto frequentate. Il nostro popolo appunto è un popolo fatto di migranti, sono tutti qui per lavoro, a volte con la loro famiglia, a volte non è stato possibile portarla. E la Chiesa offre la possibilità di continuare a vivere l'esperienza della fede, soprattutto attraverso la possibilità di partecipare alla liturgia, ai momenti di catechesi, agli incontri, allo scambio di esperienze, la possibilità di aiutarsi vicendevolmente nelle varie difficoltà. Ed è una comunità estremamente viva che proviene da oltre 100 paesi, centronazionalità. Quindi abbiamo circa un milione di fedeli che frequentano soprattutto al fine settimana e vengono da più di 100 paesi. E quindi abbiamo una comunità che è formata da persone di lingua diversa, di culture molto diverse, tradizioni anche spirituali molto diverse e anche riti diversi. E quindi questa molteplicità di caratteristiche rende un po' unica la nostra Chiesa. Soprattutto io sono molto colpito, molto edificato, diciamo, dalla fedeltà che loro vivono nella propria fede. Ecco, le nostre Chiese sono veramente piene, strapiene, alcune in particolare veramente facciamo fatica a trovare spazio per tutti, in particolare nelle Chiese più numerose, quella di Dubai o quella di Abu Dhabi. Noi abbiamo venerdì, sabato, domenica, le messe che iniziano dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 9 praticamente abbiamo continuamente fedeli che chiedono di poter partecipare alla liturgia oppure in momenti di fraternità, momenti di aiuto vicendevole, anche momenti di catechesi, di formazione alla vita cristiana. Ecco, questa è una grande ricchezza per me, veramente anche un aiuto molto forte per la mia esperienza cristiana, di pastore, di vescovo in questa zona, vedere un popolo di Dio così attaccato alla propria fede, così desideroso di partecipare, di incontrare gli altri fratelli e sorelle e in questo modo sostenersi nel cammino della vita. È veramente una grande gioia poter vedere il desiderio che hanno di trovarsi insieme a pregare e a condividere la loro esperienza. Grazie mille, Monsignor Martinelli, per questa testimonianza, grazie appunto per il suo tempo, per essere stato qui con noi. Adesso la lasciamo andare al suo lavoro. Grazie mille. Grazie e buon lavoro. Noi ritorniamo qua, siamo dagli Emirati, ritorniamo qui a Vicenza, perché invece vorrei chiedere ad Hamdan al-Zekri, diciamo, il cristianesimo ha una storia molto lunga nello Yemen, è arrivato nel VI secolo, però insomma poi mano a mano si è anche un po' diradato, diciamo. Però appunto, lo Yemen è un paese molto complesso, molto ricco, molto spirituale. Ti chiederei soprattutto, per farci entrare nello Yemen, spiegarci qual è la spiritualità yemenita. Buongiorno a tutti, islamicamente salutando, assalamualaikum warahmatullahi, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. la eskura Allah, ma la eskura al nas, da tradizione profetica, dice, non ringrazia le persone, non ringrazia Dio con lui, che non ringrazia le persone. Per cui grazie davvero, per l'invito, per l'organizzazione, per aver scelto anche di parlare dello Yemen. Credimi Costanza, è molto difficile vivere il quotidiano con la guerra nel cuore. Come ha detto Laura prima, questo conflitto ormai è 12 anni. Il conflitto che dobbiamo veramente pensarci, tutti quanti noi, no? Parlavo prima con Roberto, la geografia delle fedi, è un bellissimo titolo che dobbiamo portare anche nel nostro cuore. la geografia dei credenti, delle persone che credono, la geografia dell'umanità. E rispetto alle fedi che sono presenti nello Yemen e anche come vengono vissute, perché prima hai detto una frase molto bella, no? Nello Yemen anche le pietre pregano. Che cosa significa? E poi, siccome appunto si chiama geografia delle fedi questo incontro, se ci puoi aiutare a capire le diverse fedi che fanno parte dello Yemen e a che, diciamo, scuola, a che scuola seguono, qual è la loro fede principale? Allora, la caratteristica dello Yemen è che è ricco sia di cultura, sia di pensiero, sia di fedi. E lo Yemen, come il profeta Muhammad diceva ai popoli muslomani, se cercate la fede o la saggezza andate in Yemen, proprio nella traduzione profetica. e un grande imam diceva che in Yemen, infatti, anche le pietre pregano. Un grande amico, ingegnere, molto scientifico, uno più uno, quindi per trovare Dio devo calcolare. Dice, l'ho cercato per tanto tempo, finché non sono andato in Yemen, l'ho trovato lì. Devo andare per conoscere Dio. Per cui, in Yemen ci sono tanti fedi, tante spiritualità, certamente con tutta la sua complicità. C'è una comunità ebraica, Totogio, una fra le comunità più antiche, storiche. In questo maledetto conflitto, parlando anche con il rabbino di Firenze, che è un grande amico, il rabbino capo, mi chiedeva, perché ha letto su un giornale, che la Bibbia più antica al mondo, fra le più antiche al mondo, è scritta a mano in arabo, era in Yemen, poi finita con questo conflitto in Israele. Quindi c'è intanto la comunità più antica, come viene definito agli ebrei, dai fratelli cristiani, il fratello maggiore. E quindi la comunità, per l'Islam è la Bibbia, è un libro sacro. E quindi la comunità ebraica è una parte del patrimonio religioso yemenita, ma anche culturale. Inoltre, in Yemen c'era il Zaidita, c'era il Sonnita. Il Zaidita è una delle più scuole più vicine ai Sonniti. Noi abbiamo avuto per tantissimo tempo il grande Mufti, quindi il grande, diciamo, il punto di riferimento religioso, del parere religioso, era il Zaidita, ma nessuno se ne è accorto. Io da quando ero in Yemen, a Sanaa, io ho pregato sempre in una moschea Zaidita, accanto all'altro fratello, che è sciita, in qualche modo. Credimi, io non mi sono accorto che era la moschea Zaidita, finché l'hanno fatta schiantare, esplodere, distruggere, che ha più di 300 anni, finché l'hanno distrutta durante la guerra. Quindi lo Yemen è ricco di pensieri, ma anche ci sono i Sofi, che soprattutto sono nella zona Hadramote, che hanno una scuola stupenda, straordinaria, con una convivenza, finché non c'è la guerra. Si cerca di sviluppare il pensiero sia religioso sia spirituale e diventa ancora sempre più ricco, come ha detto anche Martinelli, c'erano anche piccole comunità cattoliche, certamente con grande fatica, perché sono delle minoranze, e quando c'è la guerra è molto difficile sia praticare la propria fede, ma anche è molto difficile elaborare i pensieri, perché il conflitto entra a prendere spazio nel cuore, quindi non vede più l'altro, vuoi annientarlo, per questo io quando dico il conflitto distrugge il passato, lo brucia, distrugge il presente e non lascia spazio per il futuro. Torneremo tra poco a capire anche come il conflitto sta cambiando la spiritualità dello Yemen. Io Laura ti chiederei, visto che anche tu conosci molto bene lo Yemen, intanto di provare a spiegarci che cos'è questo paese così complicato e così profondo, ma poi soprattutto rispetto a quello che diceva Hamdan, questa impossibilità di riconoscere se una persona prega ed è sunnita o è scita, allora tu, da persona esterna che arriva e che sa riconoscere le modalità di preghiera, ci puoi spiegare invece in Yemen che cosa hai visto? Dunque, credo che lo Yemen si possa definire un luogo, questo per la mia conoscenza, fino al 2016, che è l'anno in cui sono rientrata a guerra iniziata, io ho vissuto lì diciamo tra l'11 e il 15, dove in modo assolutamente naturale l'essere umano si trova a vivere in armonia con ciò che, se uno ci crede naturalmente, ciò che il creatore gli ha dato, cioè l'alternanza e le stagioni, quando il sole sorge, quando tramonta, nella semplicità dei frutti della terra, nell'idea che ogni minuto della tua vita è un minuto donato e quindi ad un certo punto tu smetti di fare tutte le cose che stai facendo per ricordarti che Dio c'è e che Gli puoi parlare. e posso assicurare che in tutto questo c'è sempre stata una grande naturalità, cioè le persone non facevano questo perché gli era stato tecnicamente imposto. Era un paese già, in quegli anni lì, molto diverso da tutti i paesi islamici dove ho lavorato. Ho lavorato praticamente in tutti, almeno quelli del mondo arabo, tranne il Kuwait e il Bahrain. Il fatto è, per esempio, faccio un esempio anche molto banale, si può sembrare banale ma non lo è, che non ci fossero grandi mall, grandi supermercati, grandi grattacieli, cioè queste costruzioni, queste cattedrali che costruiamo noi esseri umani, e che comunque ci danno anche l'idea di quello che siamo capaci, della modernità, della nostra capacità. Però a un certo punto tutte queste cose fanno alzare un pochino la nostra iubris, lo dico in greco. E quindi a un certo punto voi non voi ti dimentichi che prima o poi finirai, prima o poi morirai. Ecco, diciamo che in Yemen c'è sempre questa saggezza che serpeggia nelle azioni della vita, che io credo fosse la nostra saggezza, forse un po' di tempo fa, e credo per chi è molto immerso nella modernità, nella velocità, nella capacità, anche nel giusto saper fare, questo tornare un attimo a fermarsi e dire, per esempio è una cosa che ci ha imposto la pandemia, fermarsi e dire in realtà io sono essere umano, quindi sono anche fragile. Ecco, questa è una cosa che in Yemen io ho trovato fortemente e in modo estremamente naturale. È molto bello, come ricordo dello Yemen. Ti chiederei, Laura, in questo non c'erano mol, c'era una semplicità, e Hamdan diceva anche appunto una fede comunque aperta, che integra, il conflitto ha cambiato tutto questo, o mi chiedo come l'ha cambiato e soprattutto visto che siamo anche qui per capire qual è il ruolo degli anelli forti, cioè di quei paesi che sono intorno allo Yemen, nello specifico li hai già nominati anche tu, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e dall'altra parte l'Iran. Per fare una spiegata molto veloce, Iran e Arabia Saudita in questo momento sono i principali cosiddetti competitor da un punto di vista regionale, cioè stanno lottando nello Yemen, utilizzando lo Yemen come terreno di scontro indiretto per quella che viene chiamata l'egemonia regionale. Una lotta che si è complicata moltissimo, intanto con l'inserzione degli Emirati Arabi Uniti che sono diciamo una terza componente, ma soprattutto adesso con quello che è successo a Gaza, tutti perché hanno sentito ai telegiornali quello che è successo nel Mar Rosso, il blocco delle navi, i missili degli Uti, il presidente Ragnano che si schianta contro le montagne, insomma tutto questo sta diventando delle dimensioni molto grandi. Ecco, guardare quello che succede nello Yemen ci aiuta a capire parte di queste dinamiche e quindi tornando all'interno, queste dinamiche così geopolitiche però che riverbero hanno sulla società yemenita? Direi che tutto questo è iniziato negli anni 90. Come diceva prima Hamdan era molto difficile distinguere all'interno dello Yemen persone di fede diverse e banalmente lo diceva anche lui ma potrei portarvi tanti esempi anche nella mia famiglia cioè non è possibile distinguere un sunnite che prega da uno shita cosa che invece è facilmente distinguibile per chi come shita segue diciamo lo shismo di matrice iraniana e puoi spiegare magari proprio concretamente banalmente voi riuscite a sapere se una persona che sta pregando è sunnita perché mette le mani così se shita le mette lungo il corpo questa è la differenza principale uno shita utilizza anche una pietra diciamo che mette in terra dove appoggiare il capo il sunnita non lo farà e così via così via ma tutte queste differenze non c'erano si entrava nella prima moschia che capitava e si pregava quando arrivava l'ora della preghiera poi quelle differenze sono arrivate con la guerra sono state devastanti ma veramente devastanti anche perché chi controllava certe zone del territorio eliminava fisicamente diciamo i sheikh quindi i rappresentanti tribali o i rappresentanti religiosi di una determinata parte gli emaci sono stati anche matrimoni quelli che noi definiremmo qui interreligiosi nel senso che la famiglia potrebbe capitare che la moglie è assunita il marito è uscita ma insomma la differenza non c'era questo per esempio esiste nella mia famiglia quindi diciamo però tutto questo è partito negli anni 90 con una fortissima influenza da parte dei paesi vicini in particolare l'Arabia Saudita sullo Yemen di Ali Abdullah Sale che venne convinto a non difendere Saddam Hussein questo è un punto fondamentale nella storia dello Yemen cioè non alzare la testa perché questi paesi come l'Iraq come lo Yemen la loro posizione specifica strategicissima la loro ricchezza perché lo Yemen non è un paese povero è un paese impoverito che è stato impoverito un paese che ha anche petrolio e gas e Ali Abdullah Sale venne convinto a non mettersi da quella parte e quindi lui si è avvicinato ai Sauditi e a quel punto diciamo i Sauditi hanno iniziato una forma di soft power sullo Yemen inoculando diciamo il guabismo cioè quindi esportando alcuni predicatori religiosi questa cosa è diventata molto forte negli anni 90 dagli anni 90 sono partiti anche dallo Yemen oltre che dall'Afghanistan dei originariamente Mujahideen che poi sono diventati altro e che diventavano appunto martiri nella guerra nella guerra in Afghanistan che aderivano al Qaeda cioè a Sana c'era una moschea molto famosa Hamdan sicuramente si ricorderà che noi abbiamo sempre chiamato Kandahar perché ci andavano solo quelli che volevano ascoltare le prediche filocaidiste stiamo parlando degli anni 90 e gli anni 2000 e quindi in questo passaggio il paese è stato venduto al miglior offerente e questo venderlo al miglior offerente è avvenuto durante l'Ebdullasal non è avvenuto dopo e nello stesso tempo però come reazione c'è stato un inasprimento anche della posizione sciita perché la famiglia Al-Huti quando l'Ebdullasal ha ucciso soprattutto non il capo famiglia ma insomma il più giovane rappresentante tra i figli comunque il capo politico si sono rivolti all'Iran hanno fondato un partito Ansarullah hanno imitato il modello diciamo così religioso iraniano hanno imitato il modello politico di Hezbollah perché Hezbollah è il modello di Ansarullah tant'è vero che nel 2011 durante la rivoluzione iemenita gli uti avevano il loro banchetto vicino all'università passavi da lì e c'erano sentivi in loop praticamente tutti i discorsi di Nasrallah del leader degli Hezbollah iraniani Hezbollah che è il partito uscita in Libano in Libano Nasrallah è il suo leader e dunque diciamo che venivano facevano ingresso nel paese delle posizioni politiche che prima non erano contemplate dall'una e dall'altra parte che ovviamente si alimentavano naturalmente sull'humus culturale l'humus culturale iemenita è un humus soprattutto religioso che è diventato ancora più religioso ma in senso non spirituale in senso fortemente politico e questo è quello che si fa quando vuoi impoverire un paese delle sue radici identitarie che in Yemen sono incredibilmente ricche incredibilmente varie con anche figure protagoniste femminili adesso ritornerei sulla spiritualità con Hamdan però vorrei chiederti di raccontare anche al pubblico quello che ci ha raccontato poco fa proprio tralasciando per un attimo la parte religiosa che anche è molto importante ma proprio di società cioè le ragazze come si guarda all'Arabia Saudita in questo momento nello Yemen soprattutto ad esempio le ragazze perché questo dice tanto di come i tempi stanno cambiando sì allora c'è una cosa nel 2016 ho fatto un lavoro per un media inglese che si chiama Index on Censorship su moda e censura e ho lavorato parecchio con le donne yemenite ma anche dell'area e ho scoperto una cosa molto interessante se vi ricordate diciamo gli italiani negli anni 50 vi ricordate il famoso film di Alberto Sordi quando lui diceva voglio fare l'americano eccetera eccetera cioè la questione è che chi impone un modello economico di stato simbolo economico impone anche un modello culturale quindi così come noi siamo andati a cercarci ci abbiamo lasciato la sartoria nel più o meno nella vita quotidiana diciamo e ci siamo andati a prendere i jeans allo stesso modo in Yemen accade per esempio ok vi faccio l'esempio sulle donne le ragazze quando vedo un tessuto perché ci sono dei tessuti bellissimi coloratissimi che sono tipici anche delle città che oggi vedi indosso solo alle donne molto anziane soprattutto nella città vecchia di Sanà e le ragazze non li usano più non li mettono più tranne tranne il secondo giorno del matrimonio perché si devono vestire come si vestivano una volta le donne però non vanno in strada vestite così perché dicono che è una roba fuori moda perché il loro modello cosa sono sono le abbaie e i niqab neri che portano le donne saudite perché quello è lo status symbol cioè se loro si vestono così significa che sono quasi ricche non so come spiegare e poi ovviamente i tessuti non sono quelli che usano né negli Emirati né in Arabia Saudita ma sono delle robe cinesi che diciamo valgono pochissimo però il concetto è quello cioè quando un paese vicino diventa fortemente ricco come è stata l'Arabia Saudita fortemente potente come sono gli Emirati gli altri aspirano a viverci aspirano a diventare come loro e in questo aspirare si perdono alcune origini identitarie per cui per tornare ai vestiti che mi sembra una cosa rilevante per quanto mi riguarda cioè quando io ho comprato dei tessuti e ho cercato di vestirmi così per uscire di casa le mie cognate mi guardavano ma questa qui è matta cioè si veste come mia nonna ecco allora questo è successo a donne che magari hanno voluto recuperare l'identità yemenita guardando a quella radice ma è una cosa che invece viene considerata assolutamente diciamo così originale al momento per i motivi che ho esposto e rispetto all'identità in questo caso però religiosa Hamdan ti chiederei come l'influenza di Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti e Iran hanno cambiato anche la modalità di intendere diciamo la religiosità la spiritualità nel performare la preghiera ad esempio se si sta imponendo un wahhabismo molto più conservatore da una parte se la guida dell'Ayatollah del grande Ayatollah la guida suprema iraniana ha un'influenza anche sui religiosi diciamo sciti all'interno dello Yemen guarda elincare i danni non riusciamo a finire questa giornata sono danni non soltanto spirituali e religiosi sono danni anche sociali perché lo Yemen è una delle sue caratteristiche come diceva Laura perché le pietre pregano perché talmente tutta una spontaneità la sua atmosfera il legame che c'è con la terra che è divina è sacra è consacrante questo è un concetto fortissimo in ogni testa di un Yemenita un Yemenita vero i danni che ci hanno fatto perché è il cercare di dare un cambiamento violento perché certo è stata l'unica repubblica è stata l'unica anche l'unico paese islamico che aveva la sua scuola islamica infatti tutti i fratelli di diversi insomma di diverse nazionalità nella comunità nell'unione della comunità islamica italiana dicano le moschee migliori in Italia sono dove il loro imam è un imam amanita potete anche chiederlo per vantare questa da Brescia a Verona a Saronno a Milano perché c'è una scuola talmente saggia una scuola che si approccia al caso si approccia al luogo si approccia il tempo si studia non è che c'è un giudizio c'è questo i jtihad che nella materia islamica quello di sforzarsi a studiare ogni caso ogni situazione e invece sono venuti a imporre delle scuole religiose talmente radicati nella politica cioè la scuola saudita è quello che tu Dio e poi c'è il re ok quindi se ti dice così tu non devi perché si contraddice quello è la stessa cosa devi seguire il re perché il re di fatto esatto e lui è legato a Dio più di te invece che nell'islam è il legame fra me e Dio neanche l'imam può essere un intermediario quindi questa spiritualità yemenita è spontanea si dice che gli yemeniti non nella nostura che dobbiamo pregare come pregava la regina di Saba perché gli yemeniti sono la regina di Saba si dice in ogni casa c'è una regina di Saba perché talmente era saggia era una donna che ha Don Luca Mazzinghi è un grande amico è beblista dice per favore portami a cercare le tracce di Saba forse riescono ancora a ricavare qualche saggezza invece di che sto invecchiando certamente e quindi hanno sconvolto la nostra non soltanto spiritualità ma anche il nostro sistema sociale che è basato sull'ospitalità le vertù le vertù tribale dal nostro punto di vista no ma ci sono sistemi sociali di aiutare il debole di aiutare il malato sono vertù che non si può mai tradire invece questi modelli sono intervenuti violentamente poi come dire costantemente che ci hanno veramente distrutto in questo momento lo yame si trova in gran difficoltà sia come sistema sociale sistema religioso per cui anche il sistema questo del houthi quello iraniano è quello che praticamente è il divenizzare le persone che nel islam sonnita non esiste però se quello attualmente che guida il houthi si dice andate a destra a destra a sinistra a sinistra dice non leggete più oggi il corano perché ascoltate più importante sono le mie parole poi certamente tutto in maniera politica strumentalizzare quindi per avere più potere più dominio e questo stanno anche lavorando sulle scuole e questa è una cosa molto molto preoccupante cosa sta succedendo nelle scuole adesso? Cioè per dirti anche disegnare l'immagine del 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 melich al houthi che la loro guida spirituale la chiamano suprema che che lui nei disegni dei dei libri del bambini questo me l'ha mandato me l'hanno mandato che cosa sta succedendo fortunatamente c'è una fascia di giovani però sotto lavorano ma con grande paura che praticamente che lui capace di far nascere anche il seme della pianta però devi rammentare il suo nome ogni mattina dopo aver seminato quindi anche questo con una situazione sociale economica e culturale è molto molto drammatica quindi la gente più semplice casca in questo poi l'analfabetismo religioso e culturale è molto forte e diventa anche molto pericoloso è facile poi da manipolare le persone Laura io adesso ti chiederei Hamdan anche tu ci avete fatto un quadro molto preoccupante ma anche molto chiaro di come queste potenze regionali cioè Arabia Saudita, Emirati e Iran sono intervenuti nella politica yemenita, nella religione yemenita nelle diverse religioni, nelle diverse fedi che sono nello Yemen e anche a livello di società proprio entrando nelle scuole entrando nelle moschee ci puoi spiegare per punti insomma in modo che sia comprensibile per tutti in maniera anche diciamo asciutta però che cosa? perché lo Yemen è così importante strategicamente? che cosa? l'Arabia Saudita vuole dallo Yemen? che cosa gli Emirati vogliono dallo Yemen? e che cosa l'Iran vuole dallo Yemen? perché? quindi perché stanno facendo tutto questo? sì prima di risponderti a questa domanda vorrei dirvi una cosa a seguire di quello che diceva Hamdan il mio ultimo viaggio che è stato alla fine del 2022 ho veramente visto un paese che non si riconosceva più ti svegliava il mattino per diciamo la preghiera del mattino per Fajr e non sentivi più la Dan che richiama la preghiera sentivi il Nasheed che è un canto politico degli uti che andava avanti per un quarto d'ora prima della Dan era una cosa fortissimamente disturbante per qualsiasi credente reale in un quartiere di Sana' che è l'unico quartiere dove è rimasto intatto diciamo il il capo del quartiere che conosco personalmente che privatamente mi ha raccontato una serie di minacce che comunque non ripeterò qui per la sua sicurezza mi è stato raccontato che una madre è rimasta vedova con tre bambini vedova non perché il marito fosse un martire della guerra vedova i fatti suoi quando arrivano gli uti che fanno il giro dei quartieri perché come nella stasi controllano esattamente chi fa cosa e hanno una persona per ogni quartiere che controlla chi fa cosa e chi entra dove perché questo è il nord dello Yemen adesso hanno parlato con questa donna e le hanno detto che bisogno c'è lei diceva io non ho i soldi per mandare le mie figlie a scuola che bisogno c'è che vada a scuola ci pensiamo noi perché in questo momento in Yemen le bambine in queste scuole vengono preparate ad essere uteri per i combattenti e i bambini maschi vengono preparati ad essere combattenti questo è lo Yemen che abbiamo in questo momento questo il risultato lo vedremo tra dieci anni e questa è una cosa che mi getta in una totale in totale sconforto perché quello che noi abbiamo e qui vengo alla tua domanda abbiamo quella che tecnicamente poi in geopolitica si chiama somalizzazione dello Yemen abbiamo l'Afghanistan in Yemen abbiamo questa roba qui solo che in Afghanistan non abbiamo i talebani che sono sunniti e lì abbiamo Ansarullah che sono appunto gli uticiti poi però con un cambio di passo sul sud perché sul sud abbiamo altre milizie e queste milizie sono anche sunnite cosa vogliono Arabia Saudita Emirati Iran vogliono la gente dello Yemen vogliono comprare pezzi di Yemen vogliono un paese impoverito che serva ai loro bisogni di hard power nella regione specifica e di soft power in un'area più ampia nello specifico cosa desiderano allora l'Arabia Saudita desidera un confine sicuro anche giustamente e al momento attuale diciamo che noi sappiamo perfettamente che desidera una pace con gli usi del nord per garantire questo confine sicuro pace che era già sul tavolo c'è ancora in place ma non viene firmata perché è scoppiata la crisi tra Israel e Gaza e i sauditi sono molto contenti che gli usi iemeniti stiano facendo quello che fanno anche se pubblicamente non lo dicono ma vi posso assicurare che in riunioni con ministri in Chatham House Rules che vuol dire che noi non possiamo attribuire chi dice cosa a chi ha detto cosa vi assicuro che con queste orecchie ho sentito questa cosa quindi la conferma c'è e la conferma è che però non firmeranno alcuna pace finché gli Stati Uniti non glielo chiederanno cioè quando ci sarà diciamo un cessato il fuoco quello che sarà perché prima o poi comunque sia ci sarà diciamo qualsiasi sia la sorte dei gazzavi ma ci sarà ad un certo punto diciamo questa azione verrà compiuta e questa è una certezza cosa vogliono gli Emirati Arabi Uniti quello che vogliono gli Emirati Arabi Uniti se lo sono già preso cioè le coste dello Yemen il controllo delle coste il controllo di Aden la città di Aden io l'ho visitata durante la guerra dal 16 quattro volte dal 16 fino al 22 nel 22 quindi immagino che adesso un anno dopo sia particolarmente migliorata la situazione c'è stata una pioggia di investimenti emiratini veramente una pioggia sulla ricostruzione necessaria delle strutture una presenza fisica delle diciamo di truppe emiratine con la bandiera emiratina hanno la loro base e un finanziamento alle milizie del sud diciamo che sono del sud dell'Ul Yemen che proteggano gli interessi degli Emirati interessi che si concentrano su che cosa? sul porto inevitabilmente sulle coste inevitabilmente perché gli Emirati non hanno diciamo una base consistente sull'altra parte del mare quindi diciamo stretto le lacrime passaggio che poi ti porta al Mar Rosso l'area diciamo del corno d'Africa è piena di basi Djibouti per esempio è un paese falso perché è un paese che è nato per creare delle basi di interesse di vari soprattutto paesi occidentali ma non solo gli Emirati non hanno niente ma se lo stanno prendendo sullo Yemen smart move come si direbbe molto intelligenti hanno fatto anche un'altra cosa si sono presi un avamposto nell'oceano indiano cioè nel mare arabico che va verso l'oceano indiano che è l'isola di Socotra l'isola di Socotra è un posto sicurissimo quindi nessuno si preoccupi quando c'è un turista che si lamenta perché non prende un aereo non prendete un aereo dallo Yemen non c'è una guerra civile in Yemen ci sono gli Emiratini che fanno i loro interessi quell'isola ormai non è più Yemenita anche se formalmente lo è queste cose vanno dette e ribadite con la certezza di chi sa quello che c'è lì quindi ormai quello è un punto strategico fondamentale che verrà sviluppato massimamente anche con un business interessante cosa vogliono gli Emiratini stanno comprando la povertà gli Yemeniti con la povertà per offrire loro questo è anche diciamo comprensibile borse di studio scholarship quindi vuoi fare l'accademia di militare ad Abu Dhabi ci pensiamo noi e quindi i ragazzi ovviamente soprattutto a Socotra anziché avere un futuro come pescatori o come coltivatori di poca roba ovviamente desiderano un futuro migliore la modernità e quindi vanno negli Emirati e quindi si legano fortemente al paese cioè è un legarsi al punto da dipendere cosa vuole l'Iran? beh anche qui l'Iran ha già ottenuto perfettamente quello che voleva cioè mezzo Yemen completamente assoggettato alla Repubblica Islamica dell'Iran con una governance che copia esattamente anche nella disposizione delle strade anche nella disposizione delle facce dei martiri sul diciamo sul cordolo dell'autostrada esattamente il modello iraniano modello che viene importato nelle scuole modello che viene importato nelle milizie modello che viene importato nel controllo della società nel controllo delle telecomunicazioni in tutto il modello possibile e anche nella religione quindi di fatto quello che volevano l'hanno già avuto e continueranno ad averlo se diciamo gli Yemeniti non riusciranno come dire da una parte a resistere alcune sirene dall'altra a costruire ricostruire un paese che possa come dire risorge da questa dipendenza ormai quasi totale io non dico totale perché non è totale ma quasi totale rispetto ai loro vicini grazie Laura per questo riassunto però molto chiaro di quelli che sono poi le dinamiche strategiche e geopolitiche nel golfo e in particolar modo appunto nello Yemen io andando ti chiederei se ci puoi far capire sono 12 anni che tu non rientri nello Yemen se non sbaglio innanzitutto com'è vivere questo esilio e vedere tutto questo da lontano e anche nelle persone con cui sei in contatto insomma come senti che sta cambiando c'è anche rapporti personali con le persone che conosci che sono rimaste lì come stanno vivendo tutti questi cambiamenti questa appunto questa intromissione degli Emirati dell'Arabia Saudita dell'Iran ma anche poi i cambiamenti grossi sul terreno ti ho detto all'inizio è molto difficile il quotidiano con la guerra nel cuore perché devo sorridere ogni giorno devo lavorare devo non vivere come dire con tormento anche angoscia qui anche ringrazio la mia moglie che è il pubblico che mi sopporta tanto anzi mi comprende perché un'invibrazione del cellulare ogni messaggio una chiamata mi causa panico soprattutto la mia famiglia è stata prima perseguitata per diversi motivi per perché non insomma per il ruolo che copriva il mio padre certamente quando sento loro quando riusciamo perché come diceva anche Laura prima anche bloccano la comunicazione magari te la bloccano però due settimane quattro settimane anche un mese quindi in quel in quel tempo devi continuare a pregare che non succeda niente non è successo niente quando riesci a parlare questa fatica anche però questa voglia di vivere proprio senza mollare anche il cercare in quanto possibile di evitare le zone del conflitto di non rassegnarsi a questo pensiero non è diventato ma è diventata una realtà di cambiare il concetto religioso e il concetto culturale è bellissimo perché in alcune città come cercano di coltivare le piante come cercano di coltivare la terra per esempio una cosa per noi banale credetemi per qualsiasi persona avere una bottiglia d'acqua butabile è semplice lo Yemen è diventato un'impresa una bottiglia d'acqua butabile soprattutto un paese molto molto difficile come territorio come estensione è molto grande è il doppio dell'Italia quindi l'acqua abitabile per esempio è uno dei problemi quindi la gente si mette a scavare a mano perché possono chiedere la benzina perché anche questo è un altro problema a chiederlo a chi comanda ora per tirarlo fuori con con le pompe invece scavano a mano e ritornano a tirarlo fanno queste cooperative perché hanno sono accorti anche che sono abbandonati io ho scritto un pezzo dove quando lo Yemen è sparito dalla coscienza internazionale del 24 marzo 2014 15 o 14 14 14 15 e vabbè e tirare l'acqua butabile perché certe malattie hanno ammazzato i bambini per la mancanza dell'acqua potabile quindi c'è questa volontà però c'è questa grande fatica io vedere gli Yemeniti che arrivano alle coste italiane con la barca per noi è una cosa drammatica perché un Yemenita non rischierebbe mai lasciando quel territorio però è la disperazione anche e ci sono anche già ora in questo momento quando è iniziata gli Yemeniti che hanno attraversato il mare per raggiungere soprattutto per un Yemenita incredibile noi eravamo quella gente dell'ospitalità quando parliamo di spiritualità si dice in Yemen essere ospitali è più importante di essere una persona che prega se te sei una persona che prega ma non offre la tua preghiera non funziona c'è qualcosa che non va ti dicevo prima che in un'unica di Yemenita quando si progettavano le case c'è la casa la porta del padrone però c'è la porta dell'ospite che si affaccia sulla strada si metteva l'acqua e il tè e devo osservare da lontano se l'ospite beve prima l'acqua significa affame quindi ti vuoi preparare da mangiare se invece arriva direttamente a bere il tè significa che sta bene e quindi anche questi valori non è che li stiamo perdendo però perché la situazione sociale economica che lo Yemen si è stato messo alle strette è veramente molto molto faticoso però è quello che ci credo quello sì come Laura ho questa sensazione anche a volte di mentre parlavo faccio fatica anche io ti dico sinceramente perché tutti i pezzi di dolore dentro di me sì però ci credo perché un popolo è molto legato alla sua cultura alla sua fede alla sua terra la terra nella cultura yamanita la terra dove è stata comandata comandata da due regine la regina di Saba quella pre biblica pre islamica e poi la regina di Arwa è stata nel 1800 che insomma ha reso lo Yemen una favola infatti Pasolini è la città di là mille e una notte la terra dei profumi nella letteratura araba l'Yemen l'Yemen Felicia anche per i romani l'Arabia Felix e noi ci crediamo che ritornare a questo quindi a volte gli Yemeniti quando raccontano queste storie quando è proprio rimette un seme di speranza dentro il cuore dei cittadini grazie mille Hamdan Hamdan Ansdekri anche noi speriamo insomma che possa essere ancora meglio tornare a essere meglio che l'Arabia Felix però Laura ti chiederei insomma rispetto invece a una prospettiva diciamo internazionale vedendo anche tutto quello che sta succedendo come si stanno muovendo le cose anche nelle ultime settimane tu siccome hai quasi piedi sul terreno moltissime fonti da quello che tu sai diciamo quali potrebbero essere i prossimi sviluppi diciamo nel medio corto periodo dunque diciamo che ci sono tre punti da osservare uno che sappiamo comunque che c'è un'area che è l'area del Mareb che è la più appetita da chiunque si trovi in Yemen dentro lo Yemen fuori lo Yemen che è l'area dove comunque gli Yemeni dovranno fare i conti tra di loro che è quella dove si trova la maggior parte del petrolio e anche una parte diciamo di gas consistente e su quella diciamo si nutrono dei dubbi riguardo ad una possibile stabilità comunque futura a prescindere dal fatto che i sauditi e appunto Anzarullah firmino un'eventuale pace quindi l'attenzione è puntata su quello il secondo punto è sappiamo con una sostanziale certezza di un avvicinamento e questo è anche interessante sotto il profilo del fatto che la politica è sempre un'opportunità del momento è un momentum e non ci sono delle regole stabilite come dire delle differenze stabilite che non possono essere superate e cioè che Anzarullah nella sua azione sul Mar Rosso sta iniziando a ricevere supporto dagli Al-Shabaab Somali quindi significa che Al-Qaeda e Anzarullah si parlano e progettano delle azioni comuni con finalità ovviamente nella politica regionale di un'azione congiunta sulla questione di Gaza ma da un punto di vista specifico nell'area di mantenere sia dalla parte più vicina al corno che dalla parte opposta un controllo il più possibile dell'area rispetto al traffico commerciale e il terzo punto che è molto interessante secondo me perché poi insomma fa agitare anche aspetti del passato che insomma dopo la morte insomma del leader di Al-Qaeda nell'Oyemen che è Khaled Batarfi che è avvenuta recentemente e che era un leader abbastanza lasco nel senso che era insomma un personaggio che teneva a un equilibrio dell'area e è stato diciamo eletto il nuovo successore che è Saed Allaulaki della famiglia Allaulaki che è una famiglia caidista famosissima tra l'altro diciamo è parente dell'Allaulaki anche lui strafamoso che venne ucciso gli americani insomma con il drone eccetera poi ci fu un'azione successiva che è stata la prima azione del governo Trump a livello di guerra a livello di antiterrorismo che avvenne nel gennaio del 2018 contro l'area del villaggio dove la famiglia Allaulaki era ancora vive presente uccidendo dei nipoti piccolissimi i bambini piccolissimi e Saed Allaulaki ha dichiarato che farà risorge al Qaeda in Yemen rendendo la più importante al Qaeda globale questo è un aspetto diciamo molto interessante che interessa chiaramente gli analisti a un livello di studio ma poi diciamo dovrà interessare purtroppo gli Yemeniti in sede perché la questione è che se come dire una indipendenza dello Yemen deve risorgere come dire puntando sull'azione del Qaeda direi che non siamo messi molto bene e questo accade perché il governo centrale di Yemenita è debole ed è fortemente dipendente da entità esterne ecco questo è un punto diciamo molto interessante per cui non è un paese sul quale che si può dimenticare proprio per il ruolo che tutti questi attori giocano a livello globale lo vediamo naturalmente in questi lo abbiamo visto in questi mesi grazie mille Laura Laura Sia Battaglia e Andana Zekri per essere stati con noi oggi e averci fatto capire un po' di più di quello che succede nello Yemen e anche nella regione abbiamo ancora se non sbaglio qualche minuto e quindi se avete qualche domanda io forse poi ne approfitterei perché appunto non è che tutti i giorni abbiamo ospiti di questo calibro per cui se avete domande Roberta vi può allungare il microfono siete tutti intimiditi siete tutti intimiditi anche ci sono tantissime informazioni che sono passate però abbiamo un signore che non conosciamo qui in prima fila che vorrebbe fare una domanda tanto per cambiare rompo il ghiaccio io volevo chiedervi abbiamo parlato degli Emirati dell'Arabia dello Yemen ovviamente non abbiamo citato l'Oman che è un paese confinante molto interessante perché pur essendo diciamo in questa penisola araba così attraversata anche da integralismi gioca un ruolo differente ci potete dire qualcosa allora posso dire una cosa poi Laura risponderà a livello politico però per noi Yemeniti l'Oman viene definito le Svizzeri del Medio Oriente quindi non prendono mai una posizione certamente guardano i loro interessi l'Oman ha aperto anche alcune porte alcune volte per alcuni rifiugiati per curare alcuni malati però come dire a scelta non aperto spalancato certamente lo Yemen ha apprezzato molto il popolo Yemenita che non è intervenuto nella coalizione il 32 paese e 31 paese ha rifiutato di intervenire certamente per i suoi calcoli per i suoi poi per gli umaniti noi gli umaniti eravamo un'unica terra del passato un'unica cultura quindi sono i nostri fratelli e quindi come politica anche come soltanato cerca di tenere un equilibrio poi legato a altre potenze altri ai suoi interessi perché è un paese tra i paesi più tranquilli più sicuri più sviluppati nella zona però non ha dato a mio avviso da cittadino Yemenita poi Laura non ha dato quel sostegno che doveva dare al suo fratello accanto perché ha le possibilità sia economiche sia logistiche però ha rifiutato comunque di partecipare non ha condiviso questa linea e penso che non è stata anche facile prendere posizioni con ragione poi insomma ha le sue protezioni a livello internazionale sì io per proseguire sul discorso svizzero di Yemen cerco di darvi un'immagine precisa nel nel 16 sono entrati in Yemen passando all'Oman sono stata anche detenuta per immigrazione illegale per due giorni con mio marito all'interno proprio diciamo del del passaggio di Farkat tra il Dofar Omanita e lo Yemen e la cosa incredibile è che cioè è un po' adesso faccio forse dico una cosa brutta però è un po' come se voi vi trovaste non so in un paese calabrese a un certo punto poi dopo un chilometro vi trovate a Lugano cioè è uguale nel senso in termini di di ordine delle strade di organizzazione anche di cioè di gestione della della plastica la spazzatura questo per darvi un'idea fisica del cosa voglia dire da quel punto di vista L'Oman c'è un punto molto interessante L'Oman è in continuità con lo Yemen perché le tribù del Dofar quindi la zona di Salala dove magari siete andati come spero andiate nei resort che sono molto belli è in continuità con la parte dello Yemen che è l'area del Mahre quindi diciamo che in realtà appunto per questo gli Yemeniti sentono che L'Oman è un paese fratello perché poi quel confine venne tagliato agli inglesi non è stato tagliato mica dalle tribù dell'area quindi questo rende diciamo quella regione in Yemen e la regione del Dofar stravicine cioè in Dofar voi trovate migliaia di Yemeniti con i loro fantastici ristoranti e poi andate in Mahra e trovate all'interno degli alberghi la foto del presidente Yemenita almeno all'epoca non era diciamo l'attuale e accanto c'è la foto del sultano dell'Oman che all'epoca quando sono andata non era l'attuale quindi è come se diciamo questi due paesi condividessero due regni e due diciamo due due identità nello stesso momento l'Oman è un paese ovviamente che si è ritagliato un ruolo diplomatico consistentissimo in questi anni non posizionandosi in un determinato specifico modo ma ha reso effettivamente possibile un dialogo rinnovato tra i sauditi e Ansarullah e l'Uti tanto è vero che soltanto dopo una grande quantità di incontri avvenuti proprio in Oman e poi i terzi parti che si incontravano eccetera in modalità anche formali che rispettavano le regole tribali iemenite che quindi non è che c'era il tavolo delle Nazioni Unite uno si siede da una parte uno si siede dall'altra con le carte ma c'era tutto un rituale che durava giorni si è potuti arrivare alla soluzione per cui ad un certo punto due anni fa abbiamo visto come se fossero i marziani cioè insomma gli umani che arrivavano su Marte abbiamo visto i sauditi che arrivavano a Sanà in macchina e questa roba è stata cioè per noi che ci occupiamo dell'area dicevamo sogno son destro ecco questo in realtà è merito degli omaniti dobbiamo dirlo e quindi probabilmente diciamo costo loro non posizionarsi però in qualche modo a parte favorire loro a prescindere e anche diciamo favorire un equilibrio della regione richiesto agli omaniti dagli inglesi anche questo dobbiamo dire nello stesso tempo però ha potuto garantire eventuali possibili colloqui di pace che comunque a un certo punto ecco sono arrivati abbiamo un'altra domanda sì grazie sono Federica Cacciavillani una parola sulla geografia delle fedi cioè queste fedi musulmane cristiane in minoranza ebrei di antica tradizione hanno altre voci oltre a quelle che usano le religioni e non le definisco fede ma solo le religioni come arma identitaria e da poter poi riuscire a manipolare per i conflitti ci sono voci dissidenti in quest'area grazie per la domanda assolutamente ci sono voci dissidenti al conflitto ai ai rappresentanti politici ai politici della confusione del caos assolutamente per esempio in Yemen sono stati uccisi tanti religiosi soprattutto Adan e Laura mi lo può confermare che durante il venerdì hanno pronunciato con coraggio non alla guerra non al conflitto non all'uccisione del fratello e sono stati uccisi ci sono nei paesi vicini anche grandi imanti a un certo livello grandi guidi religiosi nei carceri che hanno detto no perché poi guardate l'inganno del linguaggio ad oggi che io ho notato da quando ho iniziato a comprendere la lingua italiana a leggere bene l'italiano c'è un inganno linguistico e un inganno narrativo che si ripete no sono fratelli musulmani sono fratelli sono sorelle musulmane sono cugini musulmani e così giustificano l'azione violenta ma anche per distruggere la libertà ci sono stati grandi imam ci sono ora ci sono imam che sono riusciti a fuggire quindi capi religiose anche molto di un grande livello sia religioso sia culturale che hanno detto no alla guerra no al conflitto ma inutilmente anche il nostro il paese più vicino ci ha gradito dall'inizio della guerra ci sono grandi ma nei carceri però nessuno ne parla perché lui no sono fratelli musulmani e quindi se sono fratelli musulmani mettiamoli uccidiamoli oppure dialoghiamo rendiamoli partecipi cerchiamo no perché anniettare l'altro o rendere l'altro diavolo e questa è una cosa molto pericolosa è la violenza genera violenza e questo è molto importante soprattutto che siamo qui che dobbiamo essere costruttori di pace come dice anche il Papa Francesco essere testatori di speranza tessere la speranza è molto difficile però se non tessere la speranza bisogna anche studiare il contesto il contesto sociale isolare certe persone in certi luoghi o metterli da parte li stai facendo diventare persone mortali io vedo nei carceri dove a livello nazionale le persone più disperate più senza famiglia senza appartenenza escluse senza documenti diventano le persone più pericolose perché diventano persone che non hanno niente da perdere nei luoghi di guerra producono queste persone in Yemen in questo producono giovani così quando non ho niente da perdere io ti faccio anche fuori dobbiamo morire tutti e due insieme io invece ho tante cose da perdere ho la mia umanità ho la mia fede finché lui che mi ha fatto nascere e lui che mi prenderà quando vuole lui non quando vuoi te io raggiungo solo una piccola cosa ciò che dicevamo Dan vorrei spezzare una lancia e far conoscere a voi la generazione di coloro che sono scesi in piazza nel 2011 e quelli che appunto noi definiremmo millennials perché sono millennials sono dei ragazzi che in parte si riconoscevano diciamo nel modello dei più evoluti giovani globali fratelli musulmani quindi comunque diciamo musulmani in pettore ma alcuni di questi avevano anche diciamo una nuance diciamo più laica ma soprattutto aperta al mondo perché li cito perché questi ragazzi che sono andati in piazza nel 2011 che come in altri paesi arabi credevano nella possibilità non dico di creare dei paesi democratici ma di avere una società più plurale più globale molti di loro erano informatici no erano molti sono molti erano informatici filosofi registi artisti musicisti insomma traduttori giornalisti eccetera hanno cercato di resistere in questa situazione fino ai primi anni della guerra finché non sono dovuti andare via quando alcuni di loro sono stati ammazzati sono stati ammazzati da tutte le parti che ho citato cioè come dire sia da più oltransisti filo cuti che da più oltransisti salafiti penso per esempio alle milizie del gigante nella città di Taez perché in virtù di un'idea appunto globale per esempio andavano quartiere per quartiere è successa una famosissima attivista iemenita una donna guarda caso che andava a raccogliere quartiere per quartiere le testimonianze delle violazioni di diritti umani che accadevano quartiere per quartiere in Taez che è stata la città che noi definiamo la Sarajevo dello Yemen perché è tagliata a metà praticamente all'interno da una linea di da una front line e questa ragazza ha messo su un gruppo di giovani che erano sempre quelli nel 2011 andati in piazza e andavano casa per casa a dire chi è che è morto in questa casa se volete da chi è stato ucciso e quindi raccoglievano dei dati proprio dei dati concreti anche numerici e anche qualitativi su tutte le due parti che avevano commesso dei crimini contro l'umanità e lei è stata uccisa una mattina da due sicari in motoretta esattamente come accade nelle migliori mafie qualunque dopo che un imam salafite nella città di Taez aveva lanciato la caccia alla donna perché e poi la motivazione è molto interessante perché andava in giro andava in giro questo gruppo di ragazzi uomini e donne quindi in promiscuità andare a prendere questi dati ovviamente l'obiettivo non era mica la promiscuità ma era il fatto che raccogliesse quei dati perché in quei dati non c'erano solo i nemici quindi diciamo la parte utile sarullà sciita ma c'erano anche gli altri cioè quelli che appartenevano alla parte salafita il gigante e così dico questo perché i nemici sono morti tantissimi giovani trentenni ventenni che hanno creduto in questa cosa che sono andati in piazza all'epoca e che oggi quelli che sono riusciti a scappare vengono considerati da chi è rimasto che purtroppo ha subito i danni di questa guerra addirittura come la causa della guerra quando non erano la causa della guerra ma semplicemente le persone che volevano cambiare il mondo come tutti i giovani volevano cambiare la loro vita ecco questi attivisti sono tanti ma è anche vero che in un paese come questo è molto difficile raccontare le loro storie o fare in modo che le loro storie arrivino ad interesse internazionale perché insomma perché di solito insomma ecco chi fa bene anche spariglia un po' le carte e gli stereotipi spesso non viene mai raccontato grazie Laura grazie mille abbiamo un'ultima domanda sì grazie intanto grazie mille per questo incontro questo spazio per parlare di Yemen cosa che succede molto raramente questa è la mia domanda anche per Laura Silvia Battaglia in quanto giornalista mi sembra che lo Yemen dalla rivoluzione del 2011 alla guerra poi sia stato completamente cancellato dai media dalla narrazione dalle notizie che ci arrivano a differenza di altri vicini diciamo di altre storie salvo risvegliarsi quest'inverno poi con la questione uti nel Mar Rosso parlando di questi uti come degli alieni nessuno sapeva niente ecco questa almeno è la mia impressione volevo sapere se conferma e se lei ha una lettura per questo una riflessione su questo come mai c'è questa mancanza totale ecco di informazioni da anni grazie della domanda fa parte del purtroppo del processo naturale informativo dei media mainstream diciamo o dei grandi media ma uso mainstream ma in senso generale cioè il sistema dei media internazionali non è solo italiano cioè l'Italia è un paese che particolarmente si guarda l'ombelico che non ha delle relazioni internazionali di grandissima gittata perché ha deciso anche un po' di buttare l'ortiche una tradizione anche diplomatica di un certo genere e comunque è un paese che non ha una grande storia coloniale cioè colonie abbiamo avute praticamente 3-4 ma non di più quindi questo fa la differenza però è strano perché le abbiamo avute in quella zona lì quindi diciamo questo dovrebbe in realtà fare la differenza anche in questo caso ecco fa parte dell'andamento delle informazioni mediatiche cioè quando ci sono delle vicende che arrivano al picco dell'interesse mediatico su queste ci si concentra per poi dimenticarle quando la breaking news si allontana questo è un problema del sistema dei media per sé che finora è stato basato su questo modello posto che esiste ovviamente un sistema che invece va in approfondimento sempre e direi che non per fare la pubblicità però sicuramente Radio Tremondo su questo ci teniamo per me è stato come stare in un film è stato molto divertente se non fosse che parliamo di guerra di gente che muore da una parte dall'altra perché mi occupo di questo paese diciamo dal 2011 e parlo di Anzarullah dal 2011 e quando inizia a parlarne quando fisicamente mi trovavo in Yemen e gli uti scesero fisicamente dalle montagne ma veramente dalle montagne veramente in Kalashnikov e Ciabatte non era uno scherzo e io ricordo che dissi guardate che qui sta succedendo qualcosa mi disse no vabbè è un'altra rivoluzione ho detto non è una rivoluzione questo è un colpo di stato bello e buono e cioè quando io parlavo di queste robe dall'altra parte avevo una la risposta era un po' vabbè ma perché dovremmo occuparci di questo che importanza chi se ne frega in fondo era questa la risposta salvo poi svegliarsi appunto dopo quanti anni sono in cui tutti tutti parlavano di questi uti senza averne assolutamente l'idea dobbiamo metterli in conto cioè fa parte semplicemente credo della nostra professionalità quello di non arrenderci cioè secondo me non fare un parachute giornalismo cioè non saltare col paracadute da un conflitto ad un altro da una parte dell'altra del mondo questo almeno è il mio modo di lavorare perché io non credo che noi possiamo essere in grado di parlare di tutto con la stessa proprietà ma seguire l'andamento di fatti che accade una porzione di mondo possibilmente meglio di altri è andare molto in profondità questo può aiutarci a dare la continuità a dare molto il contesto tutte le pieghe del contesto e se riusciamo a resistere in un certo senso forse ad arrivare fin in fondo quando poi all'improvviso queste vicende diventano diventano vicende della ribalta internazionale l'unica cosa in questa storia che mi perplime molto è il fatto che all'improvviso si parli di Yemen solo in virtù di una milizia che agisce per diciamo autolegittimarsi in un conflitto che ormai è internazionale e in questa funzione si è autolegittimata e allora diventa molto complicato dover raccontare che da una parte Ansarullah ha acquisito questa legittimità con un'intelligenza incredibile suzza incredibile mettendosi diciamo così come front group alla difesa dei gazzawi ma dall'altra parte è molto difficile raccontare quello che accade in una città come Sanaa quello che accade ai nostri quartieri quello che accade ai nostri bambini le due cose non sono in contraddizione cioè non abbiamo i cavalieri senza macchia senza paura da un lato e i mostri dall'altro cioè si presentano nello stesso modo sono la stessa cosa e questo è molto difficile per me spiegarlo perché ovunque vada mi viene chiesto di portare avanti una polarizzazione nel racconto che per me è impossibile perché esiste nello stesso gruppo nella stessa milizia entrambe queste anime che sono solo funzionali alla sua presa di potere questo è importante da capire e su questo diciamo io personalmente non mi sento di cedere a nessuna forma di polarizzazione in questo senso grazie Laura Silvia grazie ancora grazie a voi che siete rimasti qua fino adesso sotto il sole fermi qua 30 secondi perché voglio dire solo una cosa geografia delle fedi si è sempre caratterizzata per essere un format e fino a quello è stato di analisi studio approfondimento osservazione tra geografia geopolitica fede eccetera questo incontro si è distinto per una cosa ed è per questo che vi chiedo di rimanere 10 secondi I'm done Laura Silvia vi siete resi disponibili non solo a spiegarci ma a mettere qui parte della vostra storia personale quindi questo non è scontato e io vorrei che adesso voi applaudiste per due motivi per ringraziarvi di questo e perché sappiate che noi vi incoraggiamo su questa storia qualunque essa sia e grazie a Costanza perché con la tua competenza delicata e generosa fa in modo che questo si sollevi dunque grazie noi riprendiamo